Circa un anno fa, in uno dei primi videopop di questo canale, facevo una specie di domanda delle cento pistole. Perché facciamo progetti? All'epoca vi proponevo una lettura quasi filosofica, tiravo persino in ballo Harari, secondo il quale la caratteristica fondamentale dell'Homo Sapiens è quella di immaginarsi una realtà che ancora non esiste come primo passo per realizzarla. Ci immaginiamo degli obiettivi da raggiungere, un percorso per arrivarci in un tempo definito. E un progetto è esattamente questo. Non lo dico io, lo dice l'unico standard internazionale di project management, la norma ISO 21502. Ok, risposta corretta da un punto di vista tecnico. Facciamo progetti perché ci immaginiamo degli obiettivi e delle azioni per raggiungerli. Però un bambino a questo punto chiederebbe, e perché ci immaginiamo degli obiettivi? Potremmo rispondere tagliando corto e dicendo, piccolo rompiballe, perché nella nostra natura? Cioè, dobbiamo pur trovarci qualcosa da fare nella vita. Se però questa risposta non ti soddisfa, come forse non soddisfa neanche il bambino che ha fatto la domanda, e ne vuoi una un po' più articolata, indovina dove la trovi? Esatto, dopo la sigla. Salve a tutti ragazzi e ragazzi, e ben trovati sull'unico canale che esplora il lato pop del project management. Se i miei contenuti ti creano qualche tipo di beneficio o utilità, allora metti un bel pollice in su a questo video, o ancora meglio, commenta o condividi con tutti quelli a cui pensi possa interessare. Così ci aiuterai a far uscire la cultura manageriale dalle riunioni di lavoro, dalle sale convegni, ma soprattutto dai documenti pieni di supercazzole. Se poi vuoi entrare a far parte del nostro team, allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perderti nessun contenuto. Nel video di un anno fa che citavo nella intro, partivo dall'etimologia della parola progetto, che viene dal francese projet, che a sua volta viene dal latino pro-iacere, letteralmente gettare in avanti. E come al solito quando arriviamo al latino o al greco, il loop si interrompe. E che cos'è che gettiamo in avanti? La nostra immaginazione. Non ci limitiamo a prendere atto del qui e adesso, cioè di quello che possiamo percepire con i nostri sensi, ma concepiamo una realtà immaginata, uno stato futuro, qualcosa che potrebbe accadere perché noi lo faremo accadere, perché ce lo diamo come obiettivo e troviamo la strada per arrivarci. Per arrivare a questo abbiamo dovuto spendere un bel po' di bitcoin evolutivi. In pratica, circa 70.000 anni fa, un mese più, un mese meno, il nostro cervello si è per così dire acceso. Oddio, non proprio quello di tutti. Formazione della corteccia prefrontale, conseguente rivoluzione cognitiva e da quel momento abbiamo cominciato ad immaginarci realtà ipotetiche da condividere con i nostri simili raccontando loro delle storie, per far immaginare anche a loro quella realtà ipotetica e provare a raggiungerla insieme. Come la realtà immaginata della trappola che potremmo costruire per catturare quel mammut, o quella di come potremmo colonizzare altri pianeti del sistema solare. E tutto questo perché, come chiedeva il bambino, è semplicemente per stare meglio, per ottenere dei benefici, per crearci un qualche tipo di valore associato alla realtà immaginata, cioè agli obiettivi che pensiamo di voler raggiungere. Perché alla fine il vero motivo per cui usciamo dalla zona di comfort, fa sempre figo dirlo, è solo per entrare in zone ancora più comode e confortevoli. Un progetto è uno strumento di cambiamento, l'abbiamo detto tante volte, ma ovviamente è un cambiamento che ci faccia star meglio. Un progetto si fa perché vogliamo portarci da uno stato attuale, caratterizzato da un certo livello di valore e di comfort, ad uno stato futuro in cui pensiamo che potremmo avere un livello di valore e di comfort più alto. Questo è il vero perché di un progetto, il why da cui partire, come direbbe Simon Sinek. E tra l'altro è ciò che ci aiuta a definire anche il concetto di successo di progetto, che non è aver realizzato qualcosa, qualsiasi cosa sia, con certe caratteristiche concordate, o il fatto di esserci riusciti rispettando vincoli di tempo e di risorse disponibili che avevamo. Ma il valore e l'utilità che quel qualcosa porterà a tutti gli stakeholder, sia a chi il progetto lo porta avanti, sia a chi lo commissiona, ma soprattutto agli utilizzatori di quel qualcosa che il progetto costruirà. Ed è per questo che diversi framework e metodologie di project management distinguono tra questi tre concetti. Il concetto di output, di outcome e di benefit, che rappresentano una specie di catena del valore di progetto. L'output, o come vengono chiamati in gergo i deliverables, è ciò che il progetto produce e rilascia. Un viadotto autostradale, un film, un'applicazione software, una festa di compleanno, una vacanza di una settimana, insomma tutto ciò che verrà consegnato come risultato delle attività. Possiamo però dire che sia sufficiente che l'output sia stato realizzato con le caratteristiche previste e concordate e consegnato rispettando i tempi per dire che il progetto è stato un successo? Era una domanda retorica, mi aspettavo che rispondeste ma no, certo che no! E in effetti è no, l'avevamo anticipato prima. Devi chiederti quale esito abbia avuto quell'output. Se l'output del progetto è un nuovo smacchiatore di leopardi da lanciare sul mercato, quali sono le vendite a tre mesi dal lancio? L'outcome è appunto questo esito. Rappresenta il cambiamento generato dall'output prodotto dal progetto. Ma è grande o piccolo e soprattutto è in linea con le aspettative? Immagina di essere il titolare di un'azienda e di avviare un progetto interno per realizzare un nuovo sistema di gestione documentale con l'obiettivo di migliorare la condivisione e la collaborazione tra le persone. Così organizzi e pianifichi le attività, definisci le risorse che ti servono, stabilisci un budget e ti dai un termine, diciamo, di tre mesi. Ma soprattutto definisci le caratteristiche dei deliverable, cioè dell'output, che pensi di realizzare. Detta così è facile, ma può essere un delirio perché un sistema di gestione documentale lo puoi pensare a costruire in mille modi diversi. Devi raccogliere le esigenze di chi lo utilizzerà. Quanti saranno i potenziali utilizzatori? Di quali funzionalità avranno davvero bisogno? Dovrà essere accedibile anche dall'esterno della rete aziendale? E così via. Ed è una fase cruciale perché se toppi qui, rischi di realizzare un output che non produrrà l'outcome sperato, cioè che non catturerà mai le reali necessità di chi dovrà utilizzarlo. Però, una volta tanto, facciamolo finire bene a sto esempio. Supponiamo che il progetto termini nei tre mesi previsti dal piano di lavoro e che il sistema venga rilasciato per l'uso. Ed effettivamente, già dopo un paio di mesi di utilizzo, ti rendi conto che l'esito, cioè l'outcome, è positivo. Le persone fanno meno errori, grazie al fatto che i documenti non vengono inutilmente duplicati. Chi deve lavorare su un documento, se lo va a prendere dal sistema, ci fa quello che ci deve fare, poi, quando ha finito, lo ricarica nel sistema, che provvede automaticamente a versionarlo, cioè a creare una nuova versione del documento che diventa quella corrente, conservando però le versioni precedenti, caso mai dovesse servire riesaminarle in futuro. A questo punto c'è un ultimo passaggio logico, misurare il beneficio derivante dall'esito, outcome, prodotto dall'output. Ok, la sensazione è che col nuovo sistema di gestione documentale ci siano meno errori, i documenti sono lavorati più velocemente, ma tutto questo in cosa si traduce in termini concreti di valore per l'organizzazione? Vai a chiedere al responsabile dell'amministrazione e scopri che da due mesi a questa parte, da quando il nuovo sistema è stato inaugurato, i costi operativi sono diminuiti del 20%. In pratica, il nuovo sistema viene usato con successo da tutti e questo determina un guadagno di efficienza che si riflette sui costi dell'organizzazione. Fine della storiella edificante, senza che si sia manifestata nessuna legge di Murphy. Ma che mi stai, coglione? Bene, fin qui erano chiacchiere, ma in concreto come ti dovresti muovere? Beh, in realtà dovresti, quando ti immagini un progetto, partire sempre dalla fine, cioè dal beneficio che vorresti ottenere e cercare di quantificarlo. E qui si apre un mondo, perché quali sono le misure che quantificano al meglio il beneficio? Sono solo di carattere economico-finanziario o anche di altra natura. Per esempio, come misuri i benefici di un progetto nell'ambito della scuola e dell'istruzione o di qualsiasi scenario no profit? Ci sono dei ritorni, evidentemente non monetari, che devi trovare il modo di misurare. Non è una cosa facile, ma è molto importante, perché può darti anche degli elementi per decidere se il progetto debba essere proprio fatto partire. Cioè, il gioco deve valere la candela. Il mio consiglio è di scriverlo nero su bianco. Quelli bravi lo chiamerebbero piano di gestione dei benefici, benefits management plan, ma può essere pure un appunto di mezza pagina che ti conservi per te. Diverso è se devi convincere qualcuno a fare il progetto o a finanziarlo, perché in questo caso, un buon piano di gestione dei benefici è uno strumento fondamentale per mostrare il ritorno in termini di valore del progetto e convincere il potenziale sponsor o cliente. Ma perché parliamo di piano? Cioè, perché la gestione dei benefici va pianificata? Beh, perché non ha a che fare solo con quanto valore pensiamo di ricavare dal progetto, ma anche quando questo valore maturerà. Quasi sempre, infatti, i benefici di un progetto si colgono dopo che il progetto sia concluso, in qualche caso anche molto tempo dopo, e quelli più lontani nel futuro potrebbero essere difficili o addirittura impossibili da individuare. Né l'imperatore Vespasiano, noto anche per altre realizzazioni di pubblica utilità, che ne iniziò la costruzione nel 70 d.C., né il suo successore Tito, che lo inaugurò nell'80 d.C., avrebbero pensato che i benefici del progetto di realizzazione del Colosseo si sarebbero visti anche duemila anni dopo. Quando ti sei chiarito le idee sui benefici, su come misurarli, su quando aspettarseli e su come monitorarne l'andamento, allora puoi andare a ritroso, come se ripercorressi il tempo al contrario, per definire l'esito che ti potrebbe garantire il beneficio da cui sei partito e, con un ulteriore step all'indietro, le caratteristiche del prodotto che devi realizzare. Un errore molto comune, infatti, è partire subito lancia in resta quel prodotto, spesso pensando a come ci piacerebbe a noi che fosse. Ora, se il progetto lo fai per te, sarai anche l'utilizzatore del prodotto, e non dovrebbero esserci problemi, ma se il progetto realizza qualcosa per qualcun altro, devi partire dall'analisi dei benefici che potrà ricavarne e discuterne, possibilmente insieme, di come dovrà essere fatto il prodotto e quali caratteristiche dovrà avere. A questo punto sei pronto per partire quel progetto e l'avventura comincia. Poi, ovviamente, il progetto dovrà essere condotto bene, organizzando le attività, usando nel modo migliore le risorse a disposizione e cercando di stare dentro le scadenze e dentro al budget. Se la realizzazione del sistema di gestione documentale di cui parlavamo prima finisse col costare il doppio del previsto e invece di tre mesi alla fine ce ne volessero nove, potrebbe essere un problema, anche se non sarà questo l'unico fattore che ci farà dire il progetto è andato bene o male. Il successo dipenderà infatti da quanto valore avremo da ciò che il progetto realizzerà, cioè dai benefici, dal why del nostro progetto, che poi qualche volta anche un po' di culo o non guasta. Per esempio, il progetto dell'Opera House di Sydney fu un disastro dal punto di vista della gestione, concepito e pianificato nel 1957 per essere completato nel 1963 con un budget di 7 milioni di dollari. Dollari australiani, ma pur sempre 7 milioni. In realtà ne costò 102 di milioni e il teatro fu inaugurato nel 1973. Cioè, non so se mi spiego, stiamo parlando di qualcosa come di uno sforamento del budget del 1300%, cioè 13 volte, consegnato con 10 anni di ritardo sul previsto. E come se non bastasse, anche le dimensioni del palco furono calcolate male. E ci si rese conto, ormai a teatro costruito, che non avrebbe potuto ospitare un'orchestra sinfonica a pieno organico. Quindi fallimento anche nelle caratteristiche principali del prodotto. Perché se costruisci un teatro dell'opera, la possibilità di ospitare un'orchestra intera sembrerebbe il minimo sindacale. Eppure, eppure, quello che a tutti gli effetti era stato un bagno di sangue dal punto di vista gestionale, alla fine ha prodotto benefici enormi per l'Australia e di certo inaspettati. L'opera House oggi è meta di turisti da ogni parte del mondo, è stampata sui francobolli e sicuramente immagino che l'aveste già incontrata o vista in foto da qualche parte. Insomma, una specie di Colosseo australiano. Certo, fa un po' di impressione pensare che i romani ci misero dieci anni per costruire il Colosseo e gli australiani sedici per realizzare l'Opera House. Diciamo che gli imperatori erano committenti un po' più sbrigativi e rigidi dei moderni governi democratici. In ogni caso, l'Opera House di Sydney è diventata uno dei simboli iconici dell'Australia. Vuoi per la posizione, quasi in mezzo al mare, vuoi per la sua forma veneristica, ma diciamocelo, vuoi anche per una discreta botta di culo, perché all'epoca si voleva sicuramente costruire qualcosa di avveniristico, ma i benefici sono andati sicuramente oltre le intenzioni. Però, mi raccomando, attenzione al survivorship bias. Cioè, il fatto che quel progetto alla fine abbia spaccato non ci autorizza a pensare che una buona gestione e il rispetto dei vincoli non siano importanti. Insomma, sulle botte di culo, che per carità sono sempre ben accette, diciamo che non ci baserei sopra una strategia del valore. Ecco, uno su mille ce la fa, cantava Gianni Morandi, e diventa una storia di successo, ma gli altri 999 falliscono e basta. Il valore apportato e i benefici sono il perché del tuo progetto e devi essere in grado di individuarli prima, per poi monitorarne il raggiungimento durante e dopo la fine del progetto. Un po' come a biliardo, il tiro va dichiarato prima, se no, siamo buoni tutti. Il pilotto reale è ritornato con fallito. Ciao e alla prossima.